Signor Russo, lei si è trasferito di recente, ha fatto un cambio di residenza? Sì, mi sono trasferito di recente dal comune di Rosà al comune di Tezze sul Brenta. Naturalmente il problema in questo caso è il fatto che a volte la corrispondenza continua ad arrivare al vecchio indirizzo, ma niente paura perché lei ha usufruito di un servizio messo a disposizione dalle poste. Esattamente, io praticamente inizio marzo ho usufruito del servizio delle poste Seguimi, con un contributo di 18 euro e qualcosa, un paio di centesimi, dove praticamente tutta la posta e la corrispondenza che mi arrivava al vecchio indirizzo automaticamente mi arrivava sull'indirizzo nuovo, in questo caso di comune di Tezze sul Brenta. Cosa succede? Che dopo un mese e mezzo continuo ancora ad arrivare posta sull'indirizzo di Rosà. Lei se ne è accorto perché ha visto che non arrivava a corrispondenza al nuovo indirizzo? Esattamente, non mi arrivava la corrispondenza che aspettavo, che era dell'Ulss, d'Aliabanca. Allora mi sono chiesto questa cosa, ho detto chissà cosa sta succedendo. E' passato al vecchio appartamento. E ho trovato un malloppo di posta che praticamente scoppiava la cassetta, è una cosa assurda. E non è successo una volta sola, tra l'altro? No. Lei si è recato alle poste per chiedere cosa stia succedendo? Io sono andato alle poste di Rosà dove ho pagato il servizio e mi è stato comunicato che era colpa del postino. Io ho chiesto dei chiarimenti. Mi è stato risposto che forse era colpa della centrale di Bassano e io a quel punto ho detto scusatemi, mettetevi d'accordo, io voglio fare un reclamo perché così non si può andare avanti.